Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora scusate la faccia, oggi, Etoile, vieni qui, vieni qui che cadi dal balcone, guarda dove sta Etoile, allora volevo farvi vedere la spesa, sto facendo 200 cose per distrarmi, oggi l'ennesima mazzata, vi faccio vedere che cosa ha comprato Igor, non io, allora vi faccio vedere, scusate l'entusiasmo, allora spesa fatta l'MQ, e bistecca con osso, 3,70 euro, 9,90 euro al chilo, sono 374 grammi il pan carré, senza strutto, non lo comprate comunque perché c'è l'alcol, solo in momenti di emergenza, carne che devo mettere in frigo, pollo in offerta, quello da far alla diavola, e super offerta, 1,90 euro al chilo, è pochissimo, super offerta, e le salsicce a 4,90 euro al chilo, salsicce romane macinate, e le spuntature per fare il sugo, che a Roma si chiamano spuntature, dalle altre parti si chiamano costine, i viustel aia, o le tacchine, vediamo che non contengono carne separata meccanicamente, si, la contengono, non comprate questi perché contengono carne separata meccanicamente, ma in tempi di carestia ogni pertuse galleria, questi mettono in frigo nel cassetto, mazzetto di asparaggini, quando mangiate gli asparagi cercate di metterci sempre del formaggio, che le gagli ho salati, adesso la bistecca la mettiamo qua, ci mettiamo il sale, è rovente, dammi la bistecca, che credo che sia rovente, e me lo passi? qua c'è, cos'è queste? le mozzarella? una melanzano, 86 centesimi, che si vergognassero, mozzarella francia, 3,41 euro, era in offerta, 6,90 euro al chilo, la melanzano, 86 centesimi, pomodorini, ciliegini, non c'è scritto il prezzo sopra, ho lo scontrino di là, le uova, pasta gialla, che sono buonissime, sono specifiche per fare la pasta in casa, però sono buone per tutto, affettati, specchia trentino, si sono sempre loro, non è che, cioè, si stanno andando a buttare giù le cose, ci sono gli operai ragazzi, allora, specchia trentino, 92 centesimi, 7,90 euro al chilo, e prosciutto cotto alla brace, 1,29 euro, e un etto, 3 confezioni di petti a 2 euro, per 3 confezioni, mix di formaggio grattugiato, questo è 0,99 centesimi per un etto e mezzo, e filone di pane, questo va subito affettato però, col tellum trovandi, questa è la spesa, si ma Violetta non ho ancora capito dopo il soggiorno, no ma non si attacca, non ci mettere l'olio Vilma, e vedo, si è attaccata? si perché non si laverà mai più, si è attaccata, dai guarda un'ile carina, si è attaccata e viene carina, non è carina, io non ho mai parlato a una bistecca in termini di carina, era buona? non so neanche se caricherò sto video, adesso sto facendo un sacco di cose, per non pensare, a quanto è successo, amore mio tu che mi stai chiamando, adesso ti richiamo, va bene così ragazzi, va bene, si si si, no no va bene così, eccoci qua, va bene così, siete stati meravigliosi, ci vediamo allora mercoledì, poi a mezzogiorno, va bene, li fai tu i conti di quello che manca, me lo dici via whatsapp, si adesso me lavo le mani così facciamo, si no no poi me lo scrivi via whatsapp, va bene, va bene, ok, va bene, così vi riposate, che oggi è stato un massacro anche per voi, stravolta al bagno, con massacro mio personale, ci si può anche mangiare dentro il cesso praticamente, ripeto non so se caricherò questo video perché, sembra un epitafio più che un video, però appunto sto facendo un sacco di cose per non pensare a quanto è accaduto, ok, si io ne mangio un pezzettino così per simbolo perché non è che abbia tutta questa gran fame, Violetta che c'è? Un biscotto? Iscriviti al nostro canale! Un Aw seem! Iscriviti al nostro canale! Grazie a tutti.